Edizione straordinaria! Scandalo al macello! Sinclair denuncia il governo! Edizione straordinaria! Solo un centesimo! Roosevelt non ne poteva più. Aveva fatto di tutto da quando era diventato presidente. Aveva approvato riforme. Si era occupato di diritti dei lavoratori e di politiche ambientali. Era stato un arbitro tra le forze economiche in conflitto, garantendo giustizia a tutti e non dispensando favori a nessuno. Eppure quel Sinclair lo stava facendo impazzire. Presidente, il New York Times ha pubblicato la denuncia di Sinclair. Da quando è uscito quel suo dannato libro? Sembra essere lui il difensore degli americani. Sinclair aveva pubblicato The Jungle e denunciava le inumane condizioni di lavoro dell'industria alimentare americana. Aveva chiesto un appuntamento al presidente per metterlo a conoscenza della situazione. Bisogna agire a livello politico, presidente. Lo stato di salute dell'industria della carne è gravissimo. Manca totalmente delle prescrizioni igieniche essenziali. Una commissione d'inchiesta se ne occuperà al più presto. Poi però Roosevelt non aveva reso pubblici i risultati della sua indagine e Sinclair si era recato al New York Times. Io sono qui per sensibilizzare la popolazione rispetto a questo problema sanitario che coinvolge direttamente milioni di cittadini. La popolazione incominciò ad allarmarsi e lo scandalo travolse il presidente. Bisogna agire subito, oggi stesso o il lavoro di due mandati andrà a farsi benedire. In un giorno soltanto vennero così approvati due provvedimenti che obbligavano a specificare ingredienti e data di scadenza per ogni alimento in vendita. Ma l'ondata di denuncia non sembrava arrestarsi. Il primo era stato Jakob Ries, fotodocumentarista di origine danese, a mostrare al mondo le squallide condizioni di vita negli slums di New York. Era stato fotoreporter della polizia per molti anni. Aveva avuto accesso e aveva immortalato diverse situazioni limite. E il suo racconto aveva smosso i cuori della New York borghese e benestante. Il sovraffollamento e la miseria furono così evidenti che l'altra metà divenne una realtà difficile da nascondere. Scrittori e giornalisti continuavano a pubblicare articoli, inchieste, romanzi, vignette e fotografie che influenzavano l'opinione pubblica statunitense. Questi intellettuali erano scesi nelle strade delle grandi metropoli. Si erano infiltrati nelle fabbriche, arrivando fino ai gangli della politica e ai magnati dell'industria. Nellie Bly, pseudonimo di Jane Cochran, lavorava al New York World di Joseph Pulitzer. Rimase sotto sorveglianza presso il Women's Lunatic Asylum per dieci giorni e poi ne denunciò le condizioni inumane. Sì, è fatta passare per pazza, ma è una mia giornalista e dovete rilasciarla subito. È una trappola per topi. È facile entrare, ma una volta lì è impossibile uscirne. Un'altra donna, Ida Tarbell, smascherò il magnate della Standard Oil, John D. Rockefeller, dimostrando come fosse un avido avaro monopolista. Rockefeller e i suoi soci non hanno costruito la Standard Oil nelle sale riunioni delle banche di Wall Street. Ne hanno ottenuto il controllo attraverso bustarelle e ricatti, spionaggio e riduzione dei prezzi, con un'organizzazione efficiente e spietata. La sua inchiesta divenne rapidamente un best seller. E la Corte Suprema degli Stati Uniti dovete applicare la legge antitrust decretando lo scioglimento della holding in 34 società distinte. Per Theodore Roosevelt era un'emergenza dietro l'altra. In un discorso pubblico, Roosevelt affibiò a questi intellettuali l'appellativo di McRakers, intendendo con il termine rastrellatori di scandali. Tutto questo sensazionalismo, tutto questo parlare di ciò che non funziona, non serve al paese. Non possiamo mica distruggerlo per poi ricostruirlo da capo. Bisogna al massimo ripulire, ristrutturare. E poi le riforme stanno facendo il loro corso. È solo questione di tempo. Era l'epoca d'oro dei giornali, che per la prima volta costavano poco ed erano alla portata di tutti. Per la prima volta si denunciavano la corruzione politica ed economica, la prostituzione, la delinquenza e il lavoro minorile, la decadenza delle periferie, la situazione di lavoro nelle fabbriche. Era la nascita del giornalismo investigativo basato su documenti e testimonianze dirette. Edizione straordinaria! Solo un centesimo! Grazie a tutti!